Grazie a tutti. 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 Chiudo. Guardi che il tema dei segnali, glielo dice uno che ha aperto uno sportello che esiste da 10 anni e ha avuto 2000 accessi. Noi abbiamo aperto questo sportello e so che ha dato anche consulenza ad Antonio Albanese per il suo film. Di cui parleremo tra poco. L'ha visto il film? No. Vado a vedere perché è bellissimo. Fondamentali. Se un genitore è fondamentale. Se un genitore nota questo, chiama il nostro sportello, chi parli con qualcuno. Perché Giulia è vittima di questo? Grazie a tutti.